Timo Tigar ha le prese con Tester Light con a largo Twitter, allunga bene Pierluigi D'Angelo e il suo allievo mentre galoppa Tilde Club che era partito forte e così conduce il numero 4 di Timo Tigar il 5 subito a tabellone in seconda posizione Taki Play a precedere via via tutti gli altri viene via deciso Twister Vida e Twister Vida viene anticipato da Taki Play passa Taki Play ma incombe Twister Vida 400 se ne vanno in 31 passa l'allievo di Giorgio D'Alessandro Senior e il targato Vida al comando e ora tempo di musica il Twister del Caterpillar 600 nell'ordine del 45.2 e siamo al completamento quasi la piegata sarà un freeway con Taki Play che si ripresenta e dopo circa mezzo miglio passato nell'ordine dell'1.1.7 Taki Play al comando 2.7.4.3.9 le prime posizioni Cavalli al completamento e chiusura del primo chilometro passato in 17 viene via Twister Gifar Cofforino Cavalli che affrontano la penultima curva nella scia si pone Tyson Jet e così sempre a comandare Taki Play che amministra il vantaggio con una frazione comoda in 16.3 sposta Timo Tigar l'otto a tabellone e l'allievo del presidente punta in avanti allunga Taki Play minaccioso l'allievo di D'Angelo 14.7 di fronte e Timio Tigar incisivo appariglia Taki Play i due perfettamente apparigliati si va a timbrare il miglio nell'ordine del 2.2.6 Taki Play sostenuto viene via la grande Tyson Jet che mi sembra il più incisivo con Vincenzo Luongo e Tyson punta in avanti è lui il più fresco della comitiva Tyson va sui primi insiste Tyson passa Timothy incombe Tyson Tyson Jet 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 facile alla meta mentre Taki Play rientra a Timotigar io 2.33 sul mio cronometro ha iniziato la grande al garigliano Vincenzo Luongo e inizia la grande qui a Dagnano con questo targato Jet un nome che è tutto un programma Tyson ve lo ricordate tutti chiaramente questo portacolore dei toniati è venuto via con azione redditizia e spazia a piacimento 3.61 quindi chiacchierato questo Jet intanto la giuria suona la sirena quindi da confermare il tutto mentre non ci dovrebbe essere problemi per la vittoria linea lo studio